Torna a farsi sentire il movimento culturale per una Diamante migliore. Ci siamo presi una pausa post-elettorale doverosa in rispetto alle buone regole della politica, ma visto che il dibattito latita anche in Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto opportuno tornare sui temi principali che riguardano la nostra città. Ci piace dire che a Diamante PD e PDL si chiedono reciprocamente notizie sul porto. Penso per esempio che continuare ad accettare passivamente che anche sulla stampa, come è successo nei giorni scorsi, si continui a parlare di porto ponendo come causa del blocco dei lavori ancora i reperti archeologici sia quantomeno grottesco. Penso che il problema sia un altro. Penso che il problema sia legato al fatto che le vicende, anche legali legate al porto, che hanno dilatato i tempi, hanno fatto aumentare comunque a dismisura il rischio di imprese e dunque i costi di realizzazione, richiedano magari dei partner finanziari. Allora il problema penso che oggi sia questo. Oggi Diamante non riesce ad attrarre investimenti privati. Tema sempre caldo quello del porto per il quale il segretario del Movimento, Gian Mattista Salerno, ha protocollato per la quarta volta la richiesta di un Consiglio Comunale aperto e da trasmettere in diretta streaming. Altro tema caldo dell'estate 2012 è quello della viabilità. La chiusura al traffico di piazza 11 febbraio avrebbe dovuto essere supportata da un più ampio progetto. Io penso che quantomeno le scelte in materia di viabilità siano delle scelte confusionarie. Io penso che a monte fosse necessario redigere, come abbiamo detto tante volte, un piano della viabilità. Fosse necessario prevedere magari anche delle vetturine elettriche per il carico e scarico. Penso non soltanto al traffico, non soltanto al carico e scarico, ma si è notato nelle ultime settimane che anche un mezzo come un'ambulanza, tutti i mezzi legati al pronto soccorso, a servizi essenziali, fanno fatica oggi a passare proprio perché non c'è un criterio niente regolamentato. Infine il turismo e la crisi. Le presenze diminuiscono non solo per la situazione economica delle famiglie, ma più in generale per la fattidica stagione corta. Una cosa è affrontare la crisi con una stagione consolidata di sei mesi di turismo. Altra cosa è affrontare la crisi con una stagione consolidata di 20 giorni di turismo. Se tu fai 20 giorni di turismo e la crisi te ne fa saltare 5, un quarto degli incassi delle attività commerciali non ci sono più. Se tu affronti la crisi con sei mesi di turismo e la crisi te ne fa saltare uno, affronti la crisi con cinque mesi di turismo. E questo è il nostro problema. Dibattito riaperto dunque e vedremo se arriveranno le classiche risposte.